Andiamo con un po' di musica DJ, you ready? Uno, due, tre, via! Questa fantastica coupe, come se la sta cavando giù? Ha messo tutte le palle dentro alla rete, bellissimo! Facciamo un applauso, per ora deve tornare indietro ancora! La palla si muove sul tetto, eh! Mamma mia, io starei attento al T1 dietro! Ok!